Signori e signori, due cose prima di far partire il video Allora, primo, tanti auguri Nick Nick, dovete sapere, è il nostro primo iscritto praticamente Oltre ai nostri parenti, vabbè Ed è un nostro amico che ci sostiene sempre Quindi ti auguro un buon compleanno Questo video l'ho registrato di martedì O so che esce sabato, ma cerca di capire che abbiamo problemi Vabbè, parte questo Seconda cosa, c'è un momento in cui Purtroppo l'audio è desincato perché ho avuto problemi con la webcam E il programma di registrazione Perché si è aggiornato mentre Stava cercando di aggiornarsi Mentre stavo registrato Ha fatto casino, comunque è solo un attimo Fidatevi il video, è bello Lo state fatte finito di dire, grazie Ciao a tutti i signori, bentornati In un nuovo episodio della Warcraft Like subito prima di cominciare Oggi faremo cose molto interessanti Perché? Visto questa casa Mi fa cagare Perché esco dalla porta e vedo costruzioni di altra gente Il mio spazio vitale è pochissimo Questo cubo, questo posto Non mi basta Voglio più spazio Io ho bisogno di aria Ho bisogno di tantissima aria Di tantissime cose E quindi è ora di spostarsi E come farlo? Se non... Aspettate che ho le robe che mi devo rimettere a posto un attimo È per questo che mi sono fatto il ciocco Che è là, non è lui È quell'altro E... Orca miseria Che lag incredibile E oggi gli daremo un nome E come chiamarlo noi? Beh... Come chiamarlo un ciocco? Mi pare ovvio Fabrizio Dov'è? Che roba bella Fabrizio! Fabri... Aspetti che dormo Fabrizio Eeeh... Lagga Quanto Fabrizio Aspetti che ti lego Da... Da sto postaccio Se non laggasse Sarai più contento Perfetto Fabrizio Fabrizio Vieni qua Vieni qua No Fabrizio Fabrizio Fa... Fatti mettere la name tag Fabri... Come faccio a... Ora ti chiami Fabrizio? Bravissimo Bene Fabrizio Ci sono arrivato un po' Oggi andiamo all'avventura Fabrizio Cioè allora ragazzi Io sono andato nel leather E ho ritrovato Queste due cose qua Però il contempo ho perso Vabbè c'ho anche questo Nel contempo ho perso Il mantello incredibile della vita Ok Fabrizio Fabrizio Siamo... Bravo Fabrizio Che vedi il tuo nome Allora dicevo Qui vedete che ho poco posto Per... Per quello che mi serve da fare Perché alla fine ho detto Eh... Mi toccherà anche a me Fare le cose Allora se non laggasse così tanto Beh è colpa della mia connessione? No La mia connessione è a posto Ancora colpa del server Perché a questo server Dovete sapere che è bello Lagga Sì guardate quanto lagga Provo ad esplorare di qua Verso... Ovest Andiamo a Ovest Fabrizio Che ci sono le cose belle Io voglio trovare un villaggio Bella Qui Ah è vero Poi non ve l'ho mai detto Casteggiando Avevo trovato una zona tutta rosa Era fichissima Ma... Io sono scemo E decido di non mettermi ci Allora Voi siete montagne Di Guano Di Guano Di Pistrello E non è il caso di stabilirsi Sulle montagne di Guano Che fa un po' cagare Allora Se Fabrizio si smette di laggare Fabrizio non fa laggare E vabbè niente Laggando si impara Boh Dalla minimappa Vedo che sono già stato In codesto luogo Incredibile Vigoroso Vigoroso Sto ripercorrendo i miei passi Che schifo Ripercorrere i passi Non mi piace Andiamo da un'altra parte Di qua non ci sono mai stato Dai che faccia crescere il server oggi Penso non sia tanto lontano Perché non sto neanche correndo Corre così Quando corre va così Quindi Eh Sarà un'avventura Ascolta ragazzi Ci risentiamo Quando il server carica qualcosa E quindi per il momento Stacco la rec E ci sentiamo dopo Signori ho trovato Se non lagga Un villaggio in rovina Fabrizio non ti allontanare C'è un cazzo Aspetti che ne lascio L'altro uovo Che mi ha cagato quell'altro Ok Questa cesta Non ce l'ho Fabrizio Fabrizio Non ti allontanare Ho detto Vabbè c'è già stato qualcuno Ecco perché non c'è un pene Fabrizio T'ho detto di non allontanarti E vabbè Fabrizio Fermati qua C'è C'è un cestello Che non Mi fa aprire Vabbè No non l'hanno guardato Perché ci sono cose interessanti Un'altra sella Perché la stacchiamo E Non mi serve C'ho Fabrizio Che cazzo me ne faccio Delle Dell'ors Bella Satorre Adesso ci andiamo a dare un occhio Ah Fabrizio Adesso dormiamo Però Te ti devo Parcheggiare Da qualche parte Perché qua Altri Guarda anche i caproni Che fanno Ciao Allora aspetta Fabrizio Che c'ho qua Il Il Non c'ho il letto dietro Fabrizio 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 Dai che non voglio rimanere fuori la notte Fabrizio Non farmi incassare Ah eccolo Ok Fabrizio Fabrizio Chi è sta gente Porca merda Ciao Salve Non Sono solo di passaggio Non voglio rompere i coglioni Via Fabrizio Corri Fabrizio Ho dimenticato il letto Fabrizio Andiamo a vedere là che roba è Ah è un altro posto In In disuso Fabrizio Noi avremmo bisogno di un letto Io Prego nella tua capacità di volo Perché altrimenti siamo in merda Fabrizio Fabrizio Ho bisogno che tu voli Bravo Vola E Non va il server Signore Mi sono spinto poco più lontano con Fabrizio Abbiamo trovato qualcosa di interessante Attento Fabrizio A non bruciare Qualcosa di interessante Perché qua c'è della lana Quindi possiamo farci il letto Al volo Yeee Grazie signori Per aver lasciato qua della lana E c'è anche un blocco d'oro qua E c'è anche una cesta Che non Fabrizio Non scappare Porca miseria Fabrizio Allora signori e signori E' successo una cosa brutta Mi sono accorto che Per andare in giro Nell'overworld A parte il fatto che La CPU Del nostro server Si sta accartocciando Ogni volta che io mi spingo Un po' più in là Con l'esplorazione Onde evitare Dovevo venire qua Nell'ether Per farmare Aspettate che vi faccio vedere Sono nello zainetto Questi cose qua Là è core petal Perché è l'unica roba Che mangia Fabrizio È l'unica roba Che può mangiare Fabrizio E' sto petalo di merda Il problema è che Sto petalo di merda Te lo droppa Uno specifico mob Dell'ether Quindi sono venuto Nell'ether Intanto che c'ero Ho farmato Un paio di dungeon E vi voglio far vedere Insieme Questo dungeon qua Insieme al buon Capital Madness Della compagnia del biscotto Il buon Panix Il buon Panix Purtroppo Non ci può essere Perché Soffre di una gravissima Patologia Di cui soffriamo tutti Cioè Lavora per vivere E Non può ancora Farlo YouTube E Vabbè Adesso vi facciamo vedere Come si sconfigge Questo coso qua Che abbiamo visto Anche insieme Al signor Come si chiama Signore Ender Night Nico E vi faccio vedere Come si batte No no Per farlo partire Semplicemente Devi parlargli Finché non si rompe il cazzo No no Non è un modo di dire Te devi continuare A parlargli Ad un certo punto Lui dice Basta Hai rotti coglioni Adesso ti spacco la testa E poi dopo Gli spacchi la testa A te Aspetta Ok E' partito Ok E' partito Allora Allora Lui da fastidio E adesso tra un po' Inizierà a buttare fuori Le palline Ecco Queste sono palline Che se ti toccano Esplodono Però non fa tanto male Eccola Vedi Questo coso qua Devi ributtarglielo addosso Eh se non laggasse sarebbe un po' Ecco Più che altro Non è bello E' tedioso Ecco No non ci presi Preso un altro Si va in contatto con il tuo corpo Ci dà poco lui E' morto Bravissimo Aspetta Aspetta che c'è il piccoletto Aspetta che c'è il piccoletto Aspetta Aspetta Preso Morto Vada da La cesta E' qui Posso aprirla io Vai Lei apra Tanto io ne ho già battuti Uno o due Lei apra e veda cosa c'è Speriamo che trovi una roba buona Perché mi serve un to Oh Bene Vampire blade L'iron bubble È carina Devi metterla nel libro Guarda 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 L'obsidian chestplate Quanto para Più due di armor Più otto armor E' tantissimo Para più del diamante Para più del diamante Allora Aspetta che io voglio capire Cosa fa il sun altar L'altare del sole Ma è una piccola ricerca Che magari Iniziamo a fare qualcosa Eh ma non ho Non ho il Allora Intanto dobbiamo tornarci a casa Quindi io direi Tanto io c'ho la warp stone Quindi io mi sasso qua Dai venga anche lei Arrivo anch'io Arrivo anch'io Allora Io secondo me Il sun altar Se lo metto qua E poi c'è tipo Un anello sopra Allora Aspetta che potrei Potrei anche prendere Il mio Libro Massigno C'è scritto Massigno Missigno Missigno Sono È un pokemon La verità c'è scritto C'è scritto M-I-S-S-I-N-G-N-O Missigno Allora Adesso vado a logica Adesso andiamo a logica Sopra c'è un anello D'oro Ergo Potremmo mettere Dove ci metter sopra Un anello d'oro Io l'ho fatto Ok no No me lo sono messo Non saprei No te lo sei inculato Rimettilo sopra Sì l'ho preso Aspetta Mi arriva droppato Prova Eh infatti Ho provato a dropparlo Ma No Prondo Non so come Come gestirlo E comunque adesso Adesso c'ho Il cibo per Fabrizio Perché era la parte importante Che dovevo fare Fabrizio Sto arrivando Aspetta Fabrizio Ciao Prondo No Eh si Mi sono teleportato Da Fabrizio Ciao Fabrizio C'ho il cibo Per te C'ho Eh perché C'ho Fabrizio Che mi sta crepando Di fame Allora Dovevo trovare Il cibo per lui Fabrizio T'ho preso T'ho preso Da mangiare Sei contento Cioè Non vuoi neanche Questo No Fabrizio Ho detto che Fabrizio Ma porca di una Come faccio A dar da mangiare A Fabrizio Eh Niente Fabrizio morirà Sì